Musica Do che gara Madonna che battaglia Uh Oh No Honestly E vincere della premio del Bahrain Secondo appuntamento del nostro super campionato Anche adesso il fataglia sul saguario Con la sua haff Maestosa In seconda posizione c'è Zeus In seconda posizione alla matcha di Zeus Vincenzo Ovviamente il buon Zeus Vincenzo se lo prende tutto questo elettro Dice di allentare Vuole incrociare Zeus che va a lungo Adesso l'interno però in questa che è l'ultima Curva Zeus Si butta dentro da bloccaggio Quasi a contatti due Attenzione pilota stiamo vedendo Tra Vincenzo e Zeus Mamma mia i due Sono amici bagli vari E' una cosa incredibile quello che stanno facendo questi piloti Vincenzo ha la scia Zeus ha la scia scusate Non si vuole buttare Vincenzo ma non può fare Vediamo se tenta la staccata Passa la gravata Qui in curva uno Va a bloccaggio Vincenzo Vincenzo qui Su Zeus Sono affaiati Qui ruota ruota Vediamo corpo a corpo Lei dà davanti per il momento Vincenzo va a contatto con Zeus Attenzione preso un attacco abbastanza Aggressivo questo Ancora a contatti due Vincenzo deve stare attento su Zeus Vediamo Beh mamma mia Vuota ruota Se Zeus va poco 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 Adesso sta succedendo un casino Intanto mi dà Leonaida Pensione perché Vincenzo può andare all'esterno Quindi il primo di Zeus I giocano appaiati Ruota ruota Vincenzo vede un sacco di tempo Lì si sopraggiunge Leonaida Pensione le due Astromite in appaia Ruota è appaia di in questo momento Zaspeo all'esterno Vincenzo all'interno Quindi avrà vantaggio Zaspeo non molla un cavolo E si mette lì appaiato Ma vuoi troppo Vincenzo